E benvenuto Alessandro Di Battista, dirigente del Movimento 5 Stelle in campagna elettorale. Buongiorno Di Battista. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Senta, questa campagna elettorale ormai è agli sgoccioli, siamo a una settimana e mezzo dalla fine. I sondaggi dicono che potete e potreste essere il primo partito in Italia, però dicono anche che forse non avrete i numeri per governare. Mi dice qual è lo scenario più probabile, che cosa si immagina? Non mi dica che vinciamo noi e basta, quello chiaramente se lo augura. No, 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 ma guardi, sono sempre molto onesto. Io non so chiaramente come andrà, perché non ho la sfera di cristallo. Vorrei soltanto dire a tutti i cittadini, che ormai penso che sia palese, che i partiti politici hanno fatto una legge elettorale per non far vincere nessuno. Perché nella loro idea non far vincere nessuno significa far vincere tutti, tranne il Movimento 5 Stelle. Per cui il prossimo scenario sarà o il 5 Stelle avrà tantissimi voti e riceverà l'incarico di governo dal Presidente della Repubblica e formerà appunto un governo per risolvere alcuni problemi. Mi riferisco soprattutto alle problematiche relative ai pensionati minimi, ai giovani che non hanno lavoro e alla corruzione, che in questo Paese, basti guardare il caso Campania, non soltanto ci fa perdere tanti denari ma provoca morte, perché quando un politico corrotto in combriccola con un camorrista nasconde rifiuti sotto casa nostra e in realtà ci sta uccidendo. Oppure il prossimo scenario sarà un mega governo, un mega inciucio, addirittura peggiore di quello del 2013, che vedrà assieme D'Alema con liberi uguali, il PD magari derensizzato, Forza Italia eppure una parte della Lega, perché questa è la mia opinione, Maroni già sta d'accordo con il Partito Democratico e Berlusconi, cioè l'ennesimo inciucio, il Movimento 5 Stelle va da solo, hanno fatto una legge elettorale per colpire l'unica forza politica che va da sola, che non fa inciuci eccetera eccetera, e poi però decideranno chiaramente i cittadini italiani. Io ora sono a Lauria, e tra l'altro è un'altra terra dove c'è stata, e c'è tuttora una dinastia politica, quella dei Pittella, che mi auguro che i Lucani abbiano il coraggio di mandare via dalla scena politica. Oggi sarò in Calabria, a Locri, sai io vedo tanta partecipazione, io sto girando tutte le piazze d'Italia, anche se non sono candidato, perché mi interessa la risoluzione dei problemi dei cittadini, vedremo come andrà, però io sono abbastanza fiducioso. Ma senta, lei dice vedo tanta partecipazione, vengo subito a una domanda che avevo in mente, però l'altro giorno ha detto che invece vede gli italiani un po' rimbambiti, allora partecipano, sono rimbambiti, sono rimbambiti quelli che non votano per il Movimento 5 Stelle? No, no, non intendevo questo, l'ho spiegato tante volte, intendevo, la mia idea la rivendico, troppo comodo prendersela esclusivamente con i politici corrotti, con i partiti politici, eccetera, eccetera, io per primo in questi cinque anni ho fatto battaglie politiche, opposizione, ho fatto denunce su denunce, su corruzione, su malaffare, si figuri, però io credo che sia giunto il momento per gli italiani di assumersi le proprie responsabilità, cioè anche noi, mi ci metto in mezzo come italiano, siamo corresponsabili appunto di una serie di disastri di questo paese. Per non essere rimbambiti che bisogna fare? Bisogna informarsi, bisogna partecipare alla vita politica, poi ognuno voterà chi vuole, per l'amor di Dio, però bisogna riuscire a destinare un'ora al giorno all'analisi politica, alla controinformazione, alla partecipazione, perché secondo me, questa è la mia idea, è stata l'assenza alla politica ad aver generato una serie di mostri che ci hanno governato negli ultimi trent'anni, che oggi dicono di voler abolire la legge Fornero, ma l'hanno votato, oppure come Renzi dicono di voler abolire il canone Rai quando ce l'hanno messo in bolletta. Gli italiani si devono anche un pochino assumere le loro responsabilità. Io ho tanti amici che come lei, la sua età, hanno un figlio, ma lei un'ora al giorno col figlio riesce a trovarla? Oppure è travolto dalla nascita a questo bambino. Lei è anche papà? No, io no, ho tanti amici, però vedo che sono un po' travolti da questo evento della vita. Guardi, ha qualcosa che ti travolge in maniera incredibile, neanche riesce a... Io alle volte mi guardo indietro, come ho fatto a campare 39 anni senza mio figlio, eppure c'è soltanto da 4 mesi e mezzo. Non so se lei riesce a vedere la foto che stiamo mandando in onda. Non so se al ritorno è la foto con il suo piccolino. Mediaset non ci ha messo il monitor, state facendo troppi tagli. Ma perché? Perché lei non sta mai fermo, una volta lo volevamo avere qua, una volta di là, ma l'abbiamo beccata almeno a Lauria. Senta, c'è uno sguardo. Comunque mio figlio è in camper con me, mio figlio è in camper con me, con la mia compagna, è bello avere il supporto della famiglia, insomma, girano l'Italia insieme a me in un camper, io scendo dal camper, faccio il comizio, poi mio figlio mi aspetta dentro il camper perché fa freddo in questo periodo anche qui al sud ed è bellissimo perché io sto, mi sto impegnando anche per mio figlio per dare, per dare un contributo modesto ad un'Italia un po' più pulita dove ci sia un paese normale, dove siano i giovani a lavorare, i nonni facciano i nonni e non il contrario, in questo paese fatto alla rovescia i giovani non lavorano, stanno a casa o scappano dall'Italia e vanno a fare i lavapiatti a Londra e i nonni non possono fare i nonni perché i nipoti non ci stanno quasi più perché si fanno meno figli, io sogno un paese in cui siano i giovani a lavorare e i nonni facciano i nonni, un paese normale. Senta, mi immagino come sarà stata contenta la sua compagna l'idea che in primi mesi saranno in camper di questo bambino che anche lì vedo donne insomma anche molto impegnate tra le notti le popate in camper com'è? Piange? No, è un bambino molto molto buono assolutamente sì e tra l'altro ho imparato a fare tante cose c'è una battuta sui pannolini non so se la posso fare però si dice che i politici siano come i pannolini e che occorre cambiarli con la stessa cadenza e per la stessa ragione vabbè ma è soltanto una battuta e io sì cambio i pannolini e sono un papà normale e onestamente è noto pure quanto sia costoso avere un figlio in questo paese in altri paesi in Scandinavia ci sono dei veri e propri diritti che vengono garantiti alle famiglie e così i genitori vengono spinti a fare sempre più figli perché un paese che non fa più figli è un paese che è destinato a morire qui in Italia invece i Renzi si inventano soltanto i bonus ecco io dico ai cittadini che ha sventurato un paese che si accontenta dei bonus delle mancette quando poi viene privato costantemente dei diritti fateci casa noi ci tolgono il diritto all'istruzione e però ci regalano il bonus a studenti ci tolgono il diritto alla sanità pubblica ma ci regalano la giornata di visita gratuita ci tolgono il diritto al lavoro ma ci danno il bonus 80 euro magari ti danno i soldi prima delle elezioni 80 euro salvo poi toglierteli dopo le elezioni bonus e mancette in cambio di diritti invece gli italiani devono riconquistare i diritti che non ci cadono dal cielo ma ci dobbiamo andare a prendere noi con la partecipazione e con l'attenzione alla vita politica nella vostra proposta per esempio quella del reddito di cittadinanza che è una delle più interessanti per chi ci segue a casa però insomma si tratta di mettere lì tantissimi soldi si tratta di mettere lì 17-18 miliardi quindi bonus o non bonus la gente dice dove li trovate? Allora innanzitutto consideri che 17 miliardi di euro sono meno dei 20 che Gentiloni è riuscito a trovare in 24 ore qualche mese fa per salvare le banche spolpate dagli stessi partiti politici soprattutto con la compiacenza del partito democratico quindi i soldi ci sono comunque noi tra le coperture che abbiamo individuato per finanziare appunto il reddito di cittadinanza che non è assistenzialismo io glielo dico sinceramente non sto girando l'Italia a combattere il reddito di cittadinanza perché ho voglia di regalare dei soldi a coloro che non hanno voglia di lavorare tu per ottenere il reddito di cittadinanza tu 50 anni 60 anni che perdi il posto di lavoro che in questo paese diventi un fantasma e ti senti fallito anche se non è colpa tua tu per ottenere il reddito di cittadinanza devi lavorare 8 ore gratuitamente per il tuo comune d'appartenenza e inserirti in un percorso formativo in un centro per l'impiego per imparare i nuovi mestieri poi ti presenteremo delle offerte di lavoro qualora ne dovessi rifiutare 3 perderesti il reddito di cittadinanza oltretutto noi abbiamo individuato vogliamo creare un reato penale ad hoc per punire penalmente coloro che mentono per ottenere il reddito di cittadinanza ma per dirle per rispondere alla sua domanda tra le coperture noi abbiamo individuato l'innalzamento della tassazione sul gioco d'azzardo il gioco d'azzardo oggi è un cancro ci sono cittadini che si vanno a giocare 20-30 euro nella speranza di avere una piccola vincita e pagare per un mese in tempo le bollette di casa ecco il gioco d'azzardo va contrastato noi abbiamo appunto individuato anche nell'innalzamento della tassazione sul gioco d'azzardo sulle concessioni al gioco d'azzardo una copertura per ottenere denari appunto con i quali finanziare il reddito di cittadinanza che serve anche per aumentare le pensioni minime a 780 euro esatto 780 euro anche per le pensioni minime 780 euro il reddito di cittadinanza e ha spiegato giustamente che naturalmente poi uno deve dimostrare che non è un falso invalido cioè no siamo il paese dei falsi invalidi dei falsi ciechi dei falsi disoccupati però io penso che uno a casa legittimamente si chieda ma com'è che controllerete se poi al vostro interno mettiamo c'è voluto il servizio delle iene per scoprire che anche tra di voi non pagavate tutti i bonifici che dovevate pagare che vi eravate detti di voler pagare diciamola bene cioè perché non sono rimborsi sono donazioni che tutti noi io oltre 200.000 euro personalmente ora che sono papà le dico sinceramente che mi servirebbero questi soldi ho donato restituito al popolo italiano finanziando con i soldi che mi spettano per legge le piccole e medie imprese italiane ecco mi sembra un paese alla rovescia cioè le sanguisughe dei partiti politici che non si sono mai tagliati un euro di stipendio attaccano noi del 5 Stelle perché a detta loro ce ne tagliamo troppo poco ora la notizia finalmente grazie alle polemiche del PD è passata infatti io ringrazio il PD Renzi il suo staff di comunicazione perché grazie a questo attacco al Movimento 5 Stelle si è diffusa finalmente la notizia perché prima non ci credevano tutti appunto relativa ai 23 milioni di euro restituiti al popolo italiano da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle mai successo nella storia per rispondere alla sua domanda noi abbiamo già individuato appunto è vero ma io le ringrazio il servizio delle Iene una forza politica si giudica anche da questo le Iene fanno un servizio li ringrazio perché ci hanno aiutato a individuare 8 furbetti qualcuno in più forse 9 furbetti che hanno restituito meno di quello che avevano dichiarato hanno restituito meno di quello che avevano dichiarato non hanno fatto un reato qua non si tratta mica di codice penale negli partiti invece soprattutto il PD fateci caso ha candidato degli indagati per peculato cos'è il peculato? è l'appropriazione di denari pubblici che non li spettavano di diritto a scopi privati mentre il Movimento 5 Stelle è attaccato perché qualcuno dei nostri non ha restituito i soldi che gli spettavano non ha donato quanto di capo in Italia fatta alla rovescia allora io la ringrazio grazie ad Alessandro Di Battista mi è piaciuta moltissimo grazie a lei la metafora dei politici come Pannolini e non faccio a tempo a chiederle quando sarà il suo turno visto che al momento si è messo un po' neppure sono candidato io esatto si è messo un po' in disparte però non faccio a tempo ci vediamo tra pochissimo grazie ad Alessandro Di Battista grazie a tutti